Ciao a tutti, sono Cosetta Olivier e partecipo volentieri a Ristart Dolomiti. Questo è il mio lavoro, un quadro dal titolo Segreti di Madre Natura, Olio su tela. Ho voluto rappresentare questa tragedia, vederla come un'opportunità per ripartire. Quindi Madre Natura ci ha mandato un messaggio dicendoci qualcosa state sbagliando però insieme io con voi possiamo rifare e rifare meglio. Vi aspettiamo numerosi il 26 gennaio a Villa Pat di Sedico per l'asta di Ristart Dolomiti.